Come si gioca al TCG di Dragon Ball Super Fusion World? Quali saranno le dinamiche che muoveranno questo GCC basato sul capolavoro immortale del maestro Toriyama? E sarà difficile comprenderne il regolamento? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Goku e i guerrieri Z sono tornati in una veste rivisitata per il lancio di un nuovo titolo che prende il nome di Dragon Ball Super Car Game Fusion World e sarà proprio in questo video che esploreremo le dinamiche di questo TCG in meno di 20 minuti. Andiamo a dargli un'occhiata. Il campo da gioco per il TCG di Dragon Ball Super Fusion World vedrà uno spazio dove posizionare il leader, un campo di battaglia dove collocare i vostri personaggi, una zona dedicata alle combo, vedremo fra poco a cosa serviranno, un'area specifica per le energie, una riservata alle vite ed infine due zone dedicate al mazzo e alla pila degli scarti. Per iniziare una partita vi serviranno un leader i quali panni vestirete durante il match ed un deck composto da una quantità variabile minima di 50 carte fino ad un massimo di 60. Sarà da notare che tutti gli elementi inclusi nel mazzo non potranno essere presenti in numero superiore a 4 unità per singola carta. Dopo aver mescolato il deck dovrete andare a posizionare quest'ultimo ed il vostro leader con la parte dove è indicata la dicitura, leader front, nelle loro zone dedicate. Poi deciderete casualmente quale dei due giocatori inizierà per primo. Potrete utilizzare un dado per lo scopo. Dopo di ciò pescherete 6 carte dalla cima del mazzo andando a formare la vostra mano iniziale. Se gli elementi in vostro possesso non vi soddisferanno potrete optare per un mulligan. In caso dovesse accadere vi basterà posizionare tutte le carte in vostro possesso nel mazzo e successivamente dopo averlo mescolato formare una nuova mano di 6 carte pronta per essere utilizzata in partita. Notate bene questo processo potrà essere svolto una sola volta a match. A questo punto non vi resterà altro da fare che prendere ulteriori 8 carte dalla cima del deck piazzandole di seguito con il dorso rivolto verso l'alto nella zona dedicata alle vite. Poi entrerà in gioco l'energy maker che verrà posto nell'area delle energie sotto il controllo del giocatore che inizierà per secondo. Questa carta varrà come una risorsa bonus da utilizzare all'occorrenza ed una volta impiegata lascerà definitivamente il campo di battaglia. Quindi portati a termine tutti i passaggi potrete dare inizio al match. Ok Arconte ed ora che ho pescato le mie prime 6 carte scopriamo assieme come leggerle. Ogni elemento nel TCG di Dragon Ball riporterà per il leader il nome della carta, il colore di appartenenza, vedremo fra poco a cosa servirà, il box degli effetti, un valore di attacco, la tipologia alla quale appartiene e tutte le info generali del caso come il numero all'interno del set di riferimento e la sua rarità. I personaggi avranno un costo di giocata con annesso colore specifico, ci arriveremo, ed il proprio valore di combo più tutto quello che in comune ci sarà con le carte leader. Infine le extra avranno tutto quello che in comune ci sarà con le carte leader e personaggi. Per quanto riguarderà invece le tipologie utili di carte che potrete includere nel mazzo saranno a vostra disposizione i seguenti elementi. I leader rappresenteranno la colonna portante del deck attorno ai quali impernieranno le dinamiche del match e potrete potenziare i loro effetti e statistiche di attacco se si soddisferanno alcune condizioni specifiche riportate nel box di testo della carta. I personaggi o carte battaglia vi permetteranno di infliggere danni o ai character rivali o direttamente al leader nemico e vi aiuteranno a far muovere le meccaniche del deck nel migliore dei modi così da favorirvi le giocate ostacolando quelle avversarie. Le extra card potranno tornarvi utili sia in fase di attacco, potenziando il valore di forza di un personaggio o leader sotto il vostro controllo che di difesa, svolgendo il medesimo compito per salvaguardare dei pezzi fondamentali per la riuscita delle strategie di gioco del deck che utilizzerete, oppure agendo attraverso effetti nei confronti di personaggi rivali, ad esempio distruggendoli o rimbalzandoli dal campo in fondo al deck o nella mano avversaria. Tenete a mente che una volta giocate esse verranno poste subito dopo la risoluzione dell'effetto nella pila degli scarti. Arconte, prima di continuare, mi spieghi cortesemente la storia del colore? Come funziona? A seconda del leader, che in questo caso sarà rosso, dovrete necessariamente includere nel deck elementi di colore rosso e nessun'altra tonalità. Per farvi un esempio, Shin potrà entrare nel mazzo di Goku perché condividerà con quest'ultimo il colore, mentre Gotenks no. Ok Arconte, perfetto, ed ora? Non ci resta altro da fare che scoprire assieme le diverse fasi che comporranno un turno di gioco. Il primo macro step, chiamato Charge, vedrà tre sottofasi. Ripristino, che vi permetterà di riattivare tutte le vostre carte presenti sul campo di battaglia, cambiando il loro stato da riposo ad attivo. Sarà da notare che nei primi turni di un match entrambi i giocatori salteranno questo primo passaggio. Ogni qualvolta che vorrete riposare una carta attiva per innescarne gli effetti, utilizzarla in un determinato momento dell'incontro o dichiararci battaglia, vi basterà ruotarla di 90 gradi. Quindi svolta questa prima operazione accederete alla fase di pescata, dove andrete ad aggiungere una carta dalla cima del deck alla mano. Chi inizierà per primo il match salterà questo passaggio. Dunque potrete decidere o meno di giocare delle energie dalla mano per impiegare i diversi elementi che vi torneranno utili durante l'arco di un incontro. E per farlo vi basterà selezionare una delle carte che avrete in vostro possesso, indifferentemente che essa sia una carta battaglia o extra, piazzandola nella zona dedicata alle energie a testa in giù con la parte frontale rivolta verso l'alto. Quindi dopo aver compiuto anche questo passaggio accederete alla fase principale, dove potrete svolgere ognuna delle opzioni che seguiranno in qualsiasi ordine quante volte vorrete finché potrete. Durante la main phase potrete svolgere tre micro step che vi consentiranno di utilizzare carte dalla mano pagandone il costo. Per farlo vi basterà utilizzare energie, esaurendole, pari al valore riportato sulla battle o extra che desidererete giocare. Sai, ho notato una cosa però, vicino al cerchio rosso dove è riportato il valore di evocazione ci sono altri cerchi più piccoli. A cosa servono? Quelli indicheranno che per giocare una specifica carta saranno richieste tante energie del colore dedicato quanti cerchi presenti. Per fare un esempio, se vorrete impiegare un Krillin, almeno una delle due energie dovrà essere necessariamente rossa. Non è il momento, ma più in là con i set arriveranno anche leader bicolore e quando accadrà questa dinamica diverrà più evidente. Quindi una volta utilizzata una carta dalla mano vi sarà concesso attivare gli effetti sia di queste ultime presenti in campo sotto il vostro controllo che quelli delle varie extra che utilizzerete, dando luogo ad eventuali parole chiave come active main o l'abilità awake dello stesso leader. La vedremo fra poco. Notate bene? Un effetto che richiederà una condizione non potrà essere utilizzato fino a quando quella stessa condizione non verrà soddisfatta. Quindi una volta che avrete giocato carte dalla mano e innescato gli effetti del caso potrete accedere alla fase di battaglia. Qui la prima cosa da fare sarà scegliere un character o leader sotto il vostro controllo per sferrare un'offensiva. Sarà da notare che qualsiasi personaggio utilizzato dalla mano potrà attaccare subito dopo il suo ingresso in campo, ad eccezione fatta di chi inizierà il match durante il suo primo turno. Quindi andrete a disegnare l'obiettivo dell'assalto. I bersagli validi saranno, durante questa fase, gli elementi mimici esauriti ed il leader, indipendentemente dal suo stato. Infatti non si potrà attaccare un character pronto salvo casi eccezionali. A questo punto, dopo aver dichiarato l'obiettivo dell'offesa, si attiveranno dapprima gli effetti when attacking ed auto. Quindi il difensore potrà decidere di attivare i propri bloccanti, character con la parola chiave blocker, distruggendoli se essi non avranno forza sufficiente per contrastare l'avversario, smorzando così l'offensiva sul nascere. Se però non ci saranno elementi del genere sul terreno, chi attacca potrà accedere, se vorrà, alla procedura di combo. In questa finestra si potranno potenziare i propri personaggi attraverso le carte che avrete in mano o sul terreno in stato di attivo, o ancora attraverso l'utilizzo delle extra assieme ad altre carte con parola chiave active battle. Il potenziamento verrà effettuato attraverso una semplice operazione matematica, sommando la potenza dell'attaccante con i diversi fattori riportati in verticale nella parte centrale a sinistra di alcuni personaggi. Ad esempio, se vorrete sferrare un'offensiva con Piccolo, potrete dargli manforte utilizzando in combo altre tre copie della medesima carta, aumentando di ben 15.000 punti l'attacco del Nameciano, che in aggiunta ai già presenti 20.000 vedrà la sua forza salire a ben 35.000. Una volta portata a termine la procedura di combo in fase di attacco, anche chi difenderà potrà, se vorrà, aprire la propria finestra di combo, svolgendo gli stessi identici passaggi ma per proteggere i propri character o leader, oppure, semplicemente, egli potrà decidere di prendere una carta dalle vite se l'obiettivo sarà il leader stesso. Aspetta, aspetta, Arconte, non ho capito questa cosa della combo. Quando attaccherete o verrete attaccati, potrete utilizzare sia i personaggi dalla mano che sul terreno, unicamente in stato di attivo, per aumentare il valore di forza del personaggio sotto il vostro controllo. In questo caso, qualsiasi elemento coinvolto per supportare l'offesa o la difesa verrà mosso nella zona di combo per poi essere distrutto e spostato nella pila degli scarti alla fine del processo. In più potrete utilizzare sia l'abilità awake del leader, se possibile, che le vostre extra per innescare l'effetto Active Battle, che non solo potrà tornarvi utile in attacco, ma anche se dovrete difendervi, e sia in un caso che nell'altro ci sarà da pagare il costo di giocata. Quindi, nel caso di Garlic Gun, per esempio, se disporrete di risorse sufficienti non vi resterà altro da fare che esaurire una singola energia per innescarne l'effetto, mettendola in combo con eventuali altri supporti così da rafforzare lo stesso leader o un elemento sul terreno che vi tornerà utile nel corso del match. Ma non finisce qui perché in casi straordinari potrete usufruire anche delle super combo, ovvero dei personaggi che forniranno un bonus in fase di difesa pari a 20.000 unità, e vi basterà piazzarle nella zona dedicata proprio alle combo per attivarne l'effetto. Questa tipologia di carta è così importante per le dinamiche di un match che, all'interno di un deck, se ne potranno avere massimo 4 copie e non di più. Attenzione, le super combo potranno essere utilizzate unicamente se dovrete difendervi. Va bene, tutto chiaro per ora, ma una domanda mi frulla in testa da un po'. La parola chiave AWAKE. Come si attiva e a che serve? Ogni leader potrà innescare il suo effetto AWAKE soddisfacendo alcune condizioni che, se verranno raggiunte, vi permetteranno di risvegliare, sia nella vostra fase principale che durante una combo, offensiva o difensiva, il potere dormiente del campione i quali panni vestirete. Per farlo vi basterà voltare la carta, per avere potenza ed effetti maggiorati rispetto alla versione a riposo. Avere un leader risvegliato vi permetterà di minacciare l'intera bordo avversaria attraverso attacchi sempre più efferati e potenti, ponendo rapidamente fine al match, volgendolo a vostro favore. Una volta che le finestre di combo, sia di attacco che di difesa, verranno risolte, si procederà al calcolo dei danni. Se la forza di chi avrà sferrato l'offensiva sarà pari o superiore a quella del difensore, quest'ultimo verrà distrutto e posto nella pila degli scarti. Se invece la difesa supererà in termini di forza l'attacco, il tutto si risolverà con un nulla di fatto e nessuno dei due giocatori dovrà né distruggere un personaggio in campo né subire alcun danno. E se sarà il leader ad essere coinvolto in battaglia Arconte? In questo caso, se un vostro personaggio avrà un valore di forza pari o maggiore rispetto a quello del leader avversario, quest'ultimo riceverà un danno e chi ne vestirà i panni andrà ad aggiungere una carta dalla pila delle sue vite alla mano. In caso di supremazia difensiva invece, come per lo scontro tra character, tutto si risolverà con un nulla di fatto. Quindi una volta conclusa la fase di battaglia potrete porre fine al turno, permettendo al vostro avversario di iniziare il suo. Perfetto Arconte, tutto davvero molto interessante, ma come si vincerà una partita in Dragon Ball Super Fusion World? Quando le vite a disposizione del vostro avversario verranno ridotte a zero, verrete automaticamente proclamati vincitori dell'incontro. Allo stesso modo vi aggiudicherete il match se chi vi giocherà contro pescherà l'ultima carta dal proprio mazzo. Come sempre in descrizione vi lascerò tutti i link utili, così da migliorare sempre più la vostra esperienza ludica. E voi quale guerriero sceglierete per buttarvi nella mischia? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.